No, aspetta, vai Oh, finalmente Ovviamente lui con l'equipaggiamento Tutto leggendario E io con tutto quanto Inizio gioco Ok Dai, ci posso provare a vincere Posso provarci Uh, salvataggio Grande Uh, PC Vai, Michael Ok Vai No Vai, salta No, ecco se il gol Me ne l'accollo Ok, vai No, miseria Mi pare anche normale Ok, dai, dai Goal Perfetto signori Il 3 a 2 Della partita 3 ovviamente per il mio amico Michele Perché io c'è un personaggio Più scarso di non so cosa E poi perché lui c'è anche un grande equipaggiamento Da un grande giocatore Torre Comunque, amici, non preoccupatevi perché ci saranno tre partite E chi vince le partite è il vincitore del torneo Obiettivo sbloccato Docevole Va bene Se la dobbiamo dire Enzo una pippa No, non è vero Ok, vai Questa volta mi userò il leggendario Ah, certo Per farmi una bia alla sconfitta No, dai Scherzato Stavolta userò un comune Con quello tuo Ok, io sto spacchettando un pacchetto che sono Ovviamente non lo tengo Bene Bene, bene Ok, vai Sfidami Se sei pronto 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 Amico mio Ok No, ho accettato Amico A me sta caricando Un minuto Ok Ti ha trovato Il bene No F*** Come è Bello questo stadio Eh, lo so Credo che questo torneo lo perderò malamente Purtroppo Ma non è neanche colpa mia È colpa del Del lag Pasqua Oh, è colpa del mio sottomaledetto E basta No, 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 no Ma, miguel No, figlio di cosa Fa col pallonetto No, no, no E poi 200 secondi Non me ne ero neanche accorto Sto perdendo male Sto perdendo male Oh, no, 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 no Ok E dai No, 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 no Questa è una delle cose che non sopporto Obbligibili Subbato subire gol Non sopporto proprio subire gol Dai, almeno un gol l'ho fatto Quindi l'importante è questo Fare almeno un gol Sento la prossima partita Nemmeno quello che faccio fare Eh Dai, poi facciamo il ritorno Ne ritorno Vince chi vince Quindi Se hai vinto queste due partite Se sono un bravo Non dovresti vincere l'ultimo Comunque Ora mi metterò un personaggio folle Vai, 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 vai Vai No, fa che io Fa che sei io Il simbale Il simbale Il simbale Il simbale 11 a 1 Ah, che cacchio Oh, finalmente Un secondo gol l'ho fatto Sono felice Sono felice Di questo gol Come vede Sono felice Sono Non vedete Vedete la mia velocità No, bello, si è sbagliato Felicità in volto 14 a 2 Velo, bello Molto Molto significativo Amici Questo risultato Ha proprio un grande Ma grande significato Vai Amici Amici Comunque Se questo video Raggiungite il like E vi torno su Edbo Inaspettato Io vi porterò Una lega Di capitazio basa Che devo fare Leg in oro E la farò Con diverse squadre Insieme a voi Ovvero Con la squadra Della Argentina Della Germania Della Francia Forse anche Dall'Italia Se è riuscito a trovare Un giocatore Dall'Italia E anche La Con la squadra Del Giappone Ovvero La nazionale Che sarebbe Qua la più forte Ok Ok Comunque Secondo me Il risultato Si può parlare Da solo Alla 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 Il risultato Si può parlare Da solo E ora A me Parte una pubblicità Ok L'ultima partita Che serve Vi torno Dai Ti ho sfidato Ok Ok Gioco Secondo me Questo qui Trauma qualcosa Di Di malvagio Ecco Lo sapevo Ma Quanto è Grosso È grossissimo Sto personaggio Cioè Ma Come fa ad essere così grosso Comunque qua valgono i gol E la sottesa Come questo Grande È È un'altra È un'altra È un'altra È un'altra È un'altra Io se non fosse più avvantaggiata Che si imballo Che si imballe Che si imballe Che si imballe Che palle Ma è enorme In realtà dovrebbe valere per tutto Sì 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 È bravo Poi se Non vince nemmeno una partita L'ultimo deve vincere No Se non è un'altra partita Va bene Allora facciamo Il secondo ritorno definitivo Il ritorno Il ritorno della vendetta Il ritorno Chi vince questo ritorno Ha vinto tutto Si chiama il ritorno della vendetta Ti sfido io O mi sfidi tu Ti sfido io Anzi io No dai scassami Andiamo Vai vediamo chi avrà messo Stavolta come personaggio Secondo me è un leggendario Va Lo sapevo Che avevi messo Siren Zitto È una partita normale Ah 240 secondi Acqua mi fa il culo a malo A malo come A strisce Te lo faccio qua Vabbè Almeno Sono contento di aver vinto Un ritorno Sono contento Vabbè perché avevo messo Il personaggio grosso Se avevo Siren Vedi come ti faccio Quello Ah Perché in quelle partite Così c'è Un personaggio piccolo No Un grosso Un personaggio grosso Perché filtra quello piccolo Quello che è il grosso no Non è il grosso no Ehm 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 Niente infrendimenti Grande gol Ma non è detto ancora niente Amici Oh non ti stare fermi in porta Se no ti hanno l'ammunizio Ehm Cosa Vai Voglio segnare di testa Perché forse ha più possibilità Che segnale normalmente Oh Ehm 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 Avevo detto che c'era qualcosa che non andava Già tre gol in meno di due secondi Ehm 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 Allora almeno posso due secondi Ehm C'è più di due secondi Io capirei Ma Non sono manco due secondi Ho salvato il culo Ho salvato il culo Il culo Ehm GOOOOO 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 Ehm GOOOOO 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 Purtroppo Non posso fare niente Sarà un turno perso Però sono contento di aver vinto il turno con il No Di aver vinto un quarto di turno con il vitorno No Ehm 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 Qui Qui Ehm 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 Eh no, troppo lungo il video, voi vi annoiate, perché ora siccome c'è capitazzi basa, che ci giocano tutti, volete il video c'è capitazzi basa, non è vero, eh, io lo devo postare. E' vero, è bello, è bello, è moltoitario, sì, non è vero, è bello, è bello, è che cazzo, è piacere, non è provato, non è possibile. Non dico che vuol dire che HeadBall è una merda Dico che HeadBall Non dico che HeadBall è una merda Se non si gioca nessuno Dico che è un po' peccato e quindi Gioco in un po' peccato E certo io sto parlando dei giochi, non delle mani Non c'è niente Oh si, 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 si Si, si, se, si, 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 si Si ho fatto un po' peccato Il solo in un po' peccato Che passare Mi oppure un po' peccato Sì, si, è stoppato Si, è successo Il macché il bende Sì, si è successo Oh, finalmente il terzo gol signori, finalmente, comunque domani mi rifaccio con le leghe di Tsubasa, poi domani vedrete uscito anche il video di Nazim Eleven, visto che oggi non ho potuto far uscire il quarto capitolo per colpa del caricamento di YouTube che non andava e poi avevo poca connessione. Il referee si assicura che lo avrete in 4k. Scusate, non fateci a caso, non mettete dislike per questo. Telegram in sugame 897, bar in suizio 9, facebook in suizio e basta perché mi sono studiato dire quel lungo atto. Per questo vi saluto.